benvenuti a questo nuovo episodio di mma talks podcast è andato per buona parte come ci si aspettava ma non per questo è stato banale e noioso anzi è stato un evento molto godibile per appassionati di lunga data ma non solo di questo sport io sì 266 l'ultimo evento numerato dell'ultimate fighting championship che è andato regolarmente in scena questo sabato notte da las vegas e che ha visto il trionfo dei campioni e delle loro rispettive categorie chiamate a difendere le loro cinture alexander volkanowski contro valian ortega e valentina 75 contro l'ora murphy e ha visto anche dispiegarsi di un legends fight a mancanza di migliori termini per definirlo tra roby loder e nick diaz i match titolati e questa particolare contesa saranno oggetto dalla nostra analisi oltre alle altre alle tante altre performance convincenti e alcuni round veramente molto esaltanti che sono avvenuti all'interno dell'ottagono nello scorso weekend dedicheremo anche in chiusura una brevissima parentesi alla prossima card della UFC ennesima card diciamo di transizione ovviamente post card numerata però tutto sommato neanche così disprezzabile ovviamente insomma l'hype l'attenzione del mondo delle mix martial arts sarà ancora rivolta a UFC 266 ma dando una scorsata ai match in programma nel weekend che verrà ci si aspetta comunque un evento anche quello anche abbastanza condibile perlomeno sulla carta prima di entrare nel vivo le presentazioni da questa parte del microfono di saluto a stefano e dall'altra c'è giovanni benvenuto giovanni ciao stefano salve a chi ci ascolta perfetto come detto UFC 266 non si è discostato più di tanto da come ci si aspettava come avevamo anche previsto in alcuni dettagli perlomeno con i risultati in alcune performance al di là forse del malevento che era la sfida competitiva più difficile da pronosticare e non per questo però per l'appunto si è rivelato un evento troppo prevedibile nello sviluppo delle sue contese anzi tutt'altro si sono visti momenti di alte mma insomma di combattimenti di alto livello round anche particolarmente pazzesca a livello emotivo con esiti che sembravano scontati fino a un certo punto poi rovesciati direttamente in corso d'opera nel giro di pochissimo tempo una dinamica simile è avvenuta nel cuore del malevento che ha visto Alexander Volkanovski confermarsi come campione di categoria featherweight ai danni di Brian Ortega per decisioni unanime 49 46 50 45 50 44 in riferimento specifico a il round pazzesco mozzafiato emozionante e nello specifico il terzo quando Ortega lo sconfitto ha avuto forse i momenti più brillanti della sua performance all'interno dell'ottagono stendendo con un potentissimo diretto sinistro Volkanovski e applicando con estrema rapidità una guillotine choke da posizione di monta fondamentalmente da posizione dominante che sembrava molto difficile da scampare invece Volkanovski con sicuramente grandissima determinazione ma soprattutto grandi abilità difensive e una forza fisica che lo ha contraddistinto in questa fase ma non solo anche in altre fasi del combattimento e dello specifico di questo incontro è uscito uscirne è uscito anche da un successivo tentativo di antriangle sempre da parte di Ortega inframmezzato da pesante sessione di grande pound a posizione dominante appunto da parte dello stesso Volkanovski anche sottoposto alla minaccia dell'antriangle Volkanovski si è ripetuto sui medesimi standard da campione e quale appunto si è confermato essere uscendo anche lì in maniera ancora esaltante da quella presa di sottomissione e andando veramente molto molto vicino alla conclusione anticipata dell'incontro già appunto in quel terzo round nel complesso di questa contesa Volkanovski diciamo ha convinto mi auguro almeno personalmente ha convinto chiunque potesse avere qualche dubbio sulla sua legittimità come migliore nella categoria featherweight dopo le note contese contestate nel loro verdetto in particolare la seconda contro max holloway credo che con questa performance abbia tolto qualsiasi dubbio sul fatto che sia il al momento il fighter più completo sotto ogni punto di vista e meritorio della cintura di categoria a featherweight nel contesto della ufc vittoria a livello statistico che per volkanovski è la decima nel suo percorso in ufc diventando così il quinto fighter nella storia della ufc a entrare nella promotion e rimanere imbattuto raggiungendo la doppia cifra di vittorie altri fighter che ci sono riusciti in passato sono stati campioni leggendi di questo sport del calibro di anderson silva camaro usman kabib norma gomedov e royce grazie questa è stata anche la sua ottava vittoria di fila a featherweight che al momento è la stress successi più lunga attiva all'interno di questa divisione di peso alla pari di quella detenuta da in momento da arnold allen volkanovski nel suo percorso nel mix martial arts insomma non perde da 20 incontri la sua ultima sconfitta risale addirittura al maggio del 2013 e appunto questa striscia di successi di 20 vittorie rappresenta quella più lunga attualmente ancora attiva diciamo non ancora macchiata da sconfitte all'interno del roster della ultimate fighting championship insomma vittoria storica sotto diversi punti di vista abbiamo elencato appena elencato il record vittoria storica anche per quello che ha dimostrato effettivamente volkanovski sia inizialmente ma poi anche nel resto dell'incontro anche quando l'azione si è fatta appettiva ma soprattutto nel primo round si è potuta ammirare la grandissima abilità nel footwork proattivo ecco più che propriamente difensivo cioè di un fighter che sa ben utilizzare il movimento in and out utilizzando in particolare i calf kick sia per diciamo stabilire comunque un modicum di attività all'interno dell'incontro in fase iniziale in cui non si va diciamo spediti o perlomeno non va lo stesso volkanovski non è abituato ad andare spedito sempre lasciando veramente pochi punti di riferimento comunque poca possibilità da parte del suo diretto avversario nello specifico ottega di andare direttamente in segno in counter volkanovski è stato veramente molto bravo a farsi vedere attirare l'attenzione l'iniziativa siamo triggerare per così dire per utilizzare un termine all'inglese la una reazione da parte di ottega farlo andare a vuoto con un movimento all'indietro e comunque portare sempre segno o un calf kick e poi successivamente lavorare invece molto più regolarmente stabilmente con i propri pugni al volto in particolare insomma jeb sinistro è regolarmente andato in porto sul volto del suo diretto avversario ortega ortega che comunque da parte sua risultando nel complesso dell'incontro probabilmente so sempre un po un passo indietro da un punto di vista di scelti offensive da un punto di vista anche atletico e fisico il che comunque va anche merito di volkanovski sì abbiamo detto in particolare su twitch fighter magari non altissimo ma strutturalmente ben messo ecco muscolarmente ben ridefinito per così dire e con un utilizzo funzionale della propria forza come esemplificato in particolare dal modo in cui è uscito con le due prese di sottomissione nel terzo round però insomma ortega bene o male è riuscito in alcune fasi a mettere a frutto il suo allungo comunque le sue maggiori dimensioni fisiche in termini di capacità di colpire con pugni da lunga distanza in particolare insomma il destro in variazione anche di guardia e quel sinistro in particolare quello che è stato che ha portato quel clamoroso knockdown del terzo round però nel complesso annullato vistosi annullare due serie tentativi di sottomissione del terzo round bravo anche da parte sua altro aspetto positivo della performance di ortega è stata forse la sua abilità nel trovare gli atterramenti i cambi di livello però per il resto in particolare nelle fasi in piedi dove insomma bene o male ci si aspettava che si potesse sviluppare il grosso dove ci si potesse giocare diciamo all'isola di questo incontro ortega è sempre sembrato un po' un passo indietro comunque virtualmente alla mercè non in una modalità simile a quella di stefchenko e murphy di cui parleremo dopo però insomma è sempre sembrato un po' un passo indietro in generale rispetto a Volkanovski che ha sempre dettato i ritmi ha sempre dettato la gestione degli spazi e ovviamente è andato a segno con grande quantità di colpi significativi è stato sicuramente il segno di una performance assolutamente completa e eccezionale Giovanni tu hai avuto modo di analizzarla nel dettaglio in un pezzo per l'ultimo uomo ti chiedo quali sono stati in particolare gli aspetti che ti hanno impressionato di più e dove poni questa performance di Volkanovski in un ideale pantheon di apoteosi titolate quel novelo di prestazioni che nella storia recente almeno nella storia recente gli ufc hanno fatto di grandi fighter o meglio perlomeno di campioni dei grandi fighter dei grandi campioni riconosciuti all'interno del massimo livello di competizione in questo sport ma guarda Stefano io la prestazione di Volkanovski e il tipo di prestazione che ha offerto me lo aspettavo sinceramente quello che non mi aspettavo era vederlo uscire in quella maniera da quel tentativo di ghigliottina quella è stata una cosa che mi ha sorpreso davvero io quando ho visto quella ghigliottina ho pensato vabbè è finita qui il match è finito e invece lui è riuscito a trovare la forza di cercare lo spazio di uscire da campione davvero da quel tentativo di sottomissione è stato sì l'ho definito un defining moment secondo me proprio della sua carriera perché lui qui ha mostrato le sue grandi capacità in termini anche difensivi e comunque di volontà all'interno della gabbia perché la ghigliottina era chiusa era una sottomissione chiusa lo ha detto anche Ortega poi in conferenza l'ho confermato Volkanovski lì è uscito davvero il campione ed ha guadagnato secondo me il rispetto anche di tutti coloro a cui non stava simpatico magari più per il secondo match con Max Hollow che per l'esito che per altre per ragioni concrete perché non esiste una ragione concreta per cui Volkanovski secondo me dovrebbe stare antipatico è un campione assolutamente professionale è un fighter che non sbaglia praticamente mai nulla non sbaglia il peso, non sbaglia la strategia mette in scena delle prestazioni davvero stellari questa è stata l'ennesima qui ha dimostrato ancora qualcosa in più sa uscire dalle situazioni davvero difficili sa rimanere all'interno del match è anche addirittura sottovalutato arrivato a un certo punto perché è l'unico fighter in UFC attivo con 20 vittorie di fila nella sua carriera nelle MMA e a quota 10 vittorie consecutive in UFC seconda difesa titolata che cosa dire di più se riesce a battere i suoi avversari così poi secondo me la sua caratteristica più importante è la mutevolezza la capacità di essere vario sia nell'arsenale ma anche adattabile a qualsiasi tipo di avversario a qualsiasi tipo di game plan e quindi ecco uno dei campioni più completi probabilmente e più illegibili anche a tratti perché tu hai fatto prima benissimo una chiosa sul suo footwork sul suo lavoro di in and out è un fighter che riesce ad adattarsi praticamente a qualsiasi tipo di game plan lo abbiamo visto contro degli striker lo abbiamo visto contro dei wrestler lo abbiamo visto contro dei jiu jitsu players quindi riesce ad affrontare ad adattarsi in maniera eccellente secondo me a qualsiasi tipo di fighter e riesce anche a dimostrare di essere superiore a tutti loro quindi niente soltanto chapeau riprendendo uno spunto che ci è stato dato in particolare dal nostro follower su una diretta precedente a questo evento fatto su twitch il nostro follower ci aveva proposto un paragone in qualche modo suggestivo con GSP in termini di dominio che Volkanovski avrebbe potuto imporre in questa categoria di peso a suo parere e nella nostra risposta diciamo ci siamo tenuti su un cauto no volendo riassumere da un punto di vista della competizione probabilmente nel senso che in un futuro che può essere più o meno prossimo forse servirà un altro test contro Max Holloway che possa magari in maniera definitiva questa volta regolare esattamente che possa essere effettivamente superiore tra i due dopo il soprattutto appunto il già ricordatissimo discusso ampiamente discusso verdetto del secondo incontro tra di loro e l'altro motivo per cui avevamo mosso una sorta di ideale opposizione a tale idea era il fatto che se GSP nel suo percorso diciamo nel suo prime ha rappresentato un passo avanti insomma ha rappresentato un fighter di avant-guarda sotto diversi aspetti anche non necessariamente legati di per sé al combattimento all'interno dell'ottagono la preparazione degli incontri particolari le scelte degli allenamenti e tutto il resto in un'epoca ancora relativamente pionieristica che perlomeno si stava professionalizzando nel mondo delle Mixed Martial Arts Volkanovski invece emerge in un contesto in cui sicuramente ci sono sempre cambiamenti soprattutto per uno sport così giovane come le Mixed Martial Arts ma comunque c'è un grado di professionalizzazione soprattutto questi altissimi livelli ormai ampiamente diffuse quindi è difficile innovare ancora di più aspetti all'fuori diciamo del combattimento comunque di quelli che possono essere gli sviluppi tecnici del combattimento alla luce di quello che è successo questo sabato c'è un aspetto diciamo di questo paragone nel quale possiamo cambiare idea nel quale effettivamente possiamo identificare in qualche modo Volkanovski come un fighter che in una maniera o in un'altra se non nella stessa maniera con cui l'ha fatto GSP nel suo Prime però in qualche modo Volkanovski può lasciare un segno davvero profondo anche a livello di Legacy all'interno di questa divisione di peso per come combatte per qualità delle sue prestazioni e tutto il resto secondo te? Ma guarda la differenza fra GSP e Volkanovski in questo momento non sta nemmeno tanto nel record o nella qualità degli ultimi avversari affrontati la differenza vera sta nel numero di difese titolate e nella qualità dei fighter affrontati durante il corso dell'intera carriera perché GSP ricordiamo che sin da subito ha iniziato ad affrontare fighter di championship level diciamo Volkanovski ci ha iniziato praticamente da Chad Mendes fondamentalmente quindi ha diciamo 6-7 match adesso all'attivo anche battendo il più forte che può essere considerato Jose Aldo può essere considerato Max Holloway non l'Aldo che ha battuto Volkanovski ma sicuramente la vittoria su una leggenda del suo calibro ha il suo peso e anche Max Holloway che è il fighter più forte secondo me nei piumi in circolazione in questo momento insieme quindi a Volkanovski io direi che con delle difese titolate magari il paragone può iniziare ad aver senso davvero nel senso proprio più stretto del championship level però a livello proprio di continuità sta già dimostrando Volkanovski di essere campione legittimo e comunque fighter degno del massimo rispetto all'interno dell'ottagono se non da Max Holloway non lo vedo sconfitto da nessuno nel breve termine e per rispondere in maniera definitiva alla tua domanda dico sì può diventare quello che è stato GSP però gli serviranno altri 5-6 match di difesa secondo me sì diciamo che il livello nel quale può effettivamente avvicinarsi a un paragone che possa reggere con GSP è proprio quello meramente statistico ma attualmente comunque molto complicato delle vittorie delle difese titolate in proprio favore anche perché propriamente da un punto di vista tecnico diciamo Volkanovski soprattutto per quanto riguarda le fasi di struggling in piedi rappresenta sicuramente uno dei migliori interpreti ma di una corrente comunque già esistente o comunque interpretata anche da altri fighter e direi forse innovata maggiormente da quello che è il suo principale ideale grande rivale di questa sua generazione che è Max Holloway per certi aspetti Max Holloway ha dimostrato di essere forse un pochino più pionieristico in questa fase delle mixed martial arts molto striking heavy se mi passate il termine Volkanovski è sicuramente un altro interprete eccellente sotto diversi punti di vista anche per caratteristiche fisiche diverse insomma anche preparazione e background diverso però è tra virgolette solo un interprete insomma di questa corrente non è esattamente un innovatore e quindi probabilmente anche per questo aspetto un'altra sfida che magari non ci può stare nell'immediato a livello di matchmaking però in un futuro può effettivamente aiutarci anche sotto questo aspetto a definire quale possa essere effettivamente il featherweight di riferimento in questa parentesi di tempo che insomma nelle mixed martial arts ormai sempre molto più competitive è sempre molto più difficile anche avere regni lunghissimi della durata di tanti incontri di tanti anni volendo nel prossimo nel giro di forse 3-5 anni probabilmente Volkanovski e Holloway se continueranno ancora a questi livelli saranno i due fighter che segneranno un po' quest'epoca in questa categoria di peso non so come la vedi tu esattamente come te non vedo nessun altro al loro livello cioè vedo loro due nello scalino più alto della piramide in questo momento e poi uno scalino sotto Brian Ortega e sotto tutti gli altri sì 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 assolutamente comunque Ortega per il suo per quanto possibile insomma si è reso abbastanza onore però oggettivamente è apparsa insomma i famosi livelli di questo gioco citando Daniel Cormier e parafrasando Daniel Cormier insomma si sono si sono rivisti anche in questa contesa che ha espresso perlomeno da parte di Volkanovski alcuni dei più alti livelli di espressione tecnica di anche utilizzo dei propri talenti fisici che si possono vedere nel Mixed Martial Arts al giorno d'oggi considerazioni simili diciamo però con un dislivello di competizione tra il campionese in carica in questo caso e lo sfidante si sono visti anche nel common event a Women's Flyweight per la difesa del titolo Women's Flyweight UFC tra la campionessa in carica ancora nuovamente in carica Valentina Savchenko e Lauren Murphy Sedicenko vittoriosa per TKO dopo 4 minuti esatti nel quarto round sesta vittoria consecutiva sesta difesa titolata consecutiva da parte appunto della fighter Kyrgyza Peruviana che appunto con 6 difese titolate consecutive è attualmente la campionessa attualmente in carica con maggior numero di difese all'attivo anche qui Giovanni si è visto in parte diciamo in pratica quello che sulla carta prevedevano un po' tutti insomma di una di una Lauren Murphy che o probabilmente trovava il cosiddetto colpo della domenica insomma se riusciva a trovare l'episodio o approfittare di un episodio fuori dal previsto che potesse invertire l'esito apparentemente scontato della contesa altrimenti insomma si sarebbe assistito all'ennesimo Savchenko show uno show fatto veramente completo è irripetibile a questi livelli più o meno a livello di competizione di mix martial arts femminili per prontezza atletica gestione anche qui degli spazi eccezionali scelte offensive variabili varietà proprio del proprio background del proprio arsenale offensivo con abilità insomma nelle fasi in piedi ma anche prontezza nel cambio di livello giusto anche per dare questo dato Savchenko ha completato almeno un takedown in 12 delle sue 13 apparizioni all'interno del UFC quindi questo è ampiamente indicativo di quanto sia brava anche nei cambi di livello e brava anche ovviamente a stabilizzare regolarmente la posizione contro qualsiasi ad fighter e anche con Murphy è stata così a terra in maniera attiva cercando quando è possibile insomma quando per certi aspetti se la sente diciamo una finalizzazione direttamente a terra però per il resto Giovanni è veramente cosa negativa per un podcast però si rimane veramente senza parole a commentare comunque quanto da un lato sia veramente molto molto brava quanto sia dominante Savchenko praticamente qualsiasi categoria femminile nella quale si trova a combattere perché stava parlando di flyweight ma anche in altre categorie di peso insomma ha dimostrato di essere ampiamente competitiva troppo competitiva delle sue dirette avversarie dall'altro però si vede anche quanto diciamo tanti meriti ci sono di Savchenko tanti però ci sono anche i limiti in questo caso di Lauren Murphy ma di tante altre fighter di queste categorie di peso che in questa fase a questo punto non sono ancora in grado di offrire un livello di competizione adeguato per la stessa Savchenko o comunque anche l'altra comitata di pietra in questo tipo di discorso di Amanda Nunez sono ancora troppo a un livello superiore e UFC 266 l'ha confermato beh se Volkanovski e Holloway sono uno scalino sopra rispetto agli avversari della divisione dei pesi piuma Savchenko è due scalini rispetto alla seconda nei pesi Mosca è una fighter troppo superiore rispetto alle sue avversarie non c'è nessuno in questo momento davvero che possa tenere le testa in questa divisione e l'unico match effettivamente che ha senso è quello della trilogia secondo me contro Amanda Nunes perché non c'è nessuno non c'è assolutamente nessun avversario che può tenere testa in questo momento lei ha ragione lei ha ragione quando dice che le sue avversarie in effetti non arrivano già rotte già spezzate contro di lei lo diventano praticamente dopo non appena subiscono i primi colpi quindi io ne sono assolutamente convinto che sia una cosa vera però arrivato a questo punto secondo me Scerchenko comincia anche a far paura non mi sorprenderebbe se non trovasse più praticamente avversarie disposte a combatterci si troverà sempre parliamoci chiaro un avversario disposto a combattere per il titolo però qui ormai le avversarie vanno come Agnelli Sacrificali non è più sembra fare un altro sport Scerchenko non è più un combattimento a pari livello è come vedere un professionista battere delle direttanti quindi arrivato a questo punto davvero io credo che l'unico match che abbia senso è o farla salire comunque di nuovo di categoria o farla scontrare con Amanda Nunes perché a 125 non c'è nemmeno proprio il paragone quando il pubblico ha iniziato a fischiare cioè mi è parso un po' Mayweather che gestiva McGregor praticamente nel loro match di box quando il pubblico ha iniziato a fischiare il match lei ha accelerato e ha finito l'incontro nella ripresa successiva dopo aver fatto due minuti di dominio totale nel terzo round praticamente quindi il discorso è questo lei chiude i match quando lo decide quindi a un livello troppo superiore non c'è competizione con le sue avversarie e pertanto secondo me dovrebbe tentare di nuovo l'assalto alla divisione superiore e sì insomma purtroppo tra virgolette nel senso che è sempre un bel vedere comunque sempre un match molto suggestivo però purtroppo diciamo in termini di sviluppo di match up comunque di crescita in generale di questa di parte importante delle mixed martial arts femminili alla fine si regira si regira si torna sempre insomma a questa prospettiva del match tra Sefchenko e Nunes come definitivo per riuscire a identificare quelle che in questo momento insomma sono le due migliori esponenti di questo sport nella speranza che ci possa essere anche appunto un'altra sfida tra le due che ci possa togliere dubbi nella pratica si può forse anche dire forse alla luce della maggiore attività in termini recenti perlomeno di Sefchenko che per certi aspetti parlando comunque di due fighter assolutamente fortissime e letali intoccabile sotto i diversi punti di vista per certi aspetti forse Sefchenko sta mostrando una maggiore completezza una maggiore capacità di controllo magari rispetto a una manna Nunes che non mi fa intendere non è che non abbia mai dominato anzi ha dominato e ha concluso diverse contese in maniera anche forse più spaventosa diciamo forse più una finisher per certi aspetti rispetto a Valentino Sefchenko dall'altra invece Sefchenko pare essere una fighter che demolisce le avversarie in maniera assolutamente più metodica quindi mostrando paradossalmente una maggiore completezza da parte di Amanda Nunes è un abbaglio dovuto forse al cosiddetto Rissi Sibayas al fatto di aver visto appunto Sefchenko in azione questo sabato averla vista forse un pochino più attiva in tempi recenti mi sto dimenticando col provamento e dei meriti di altri meriti di Amanda Nunes oppure è un'impressione che hai anche tu Sono assolutamente d'accordo Sì sì sono assolutamente d'accordo con quello che hai detto la Sefchenko è assolutamente più metodica anche secondo me ha uno stile ben definito che va bene per superare praticamente qualsiasi avversaria perché se ci fai caso fondamentalmente Sefchenko ha quella base di Muay Thai molto pericolosa contro la quale nessuna fighter è riuscita a trovare risposta se non appunto Amanda Nunes e poi quando va comunque in takedown riesce a mettere sotto alla fine anche delle Jiu Jitsu player come potrebbe essere Loren Murphy ma anche delle Vrestler ricordo ancora l'armbara Giuliana Pegna ha una completezza spaventosa anche Valentina Sefchenko però è come dici tu è assolutamente inquadrata nel suo stile è perfetta cioè è metodica è perfetta ma forse è più tra virgolette più prevedibile non credo si possa dire che sia prevedibile la Sefchenko dopo un high kick come quello su Jessica High nel senso che forse è meno varia nel gameplay è molto metodica il termine giusto quello che hai usato tu la Nunes forse fa più paura perché in questo momento comunque dopo aver battuto anche Chris Cyborg dopo aver finalizzato le sue avversarie le ha gestite davvero bene le uniche secondo me che sono riuscite a dare un barlume di speranza sono state appunto la Sefchenko che comunque ci ha combattuto alla pari nonostante le sconfitte e forse la Derandami nel secondo match ma nemmeno tantissimo quindi Shefchenko più metodica sì più precisa perfetta soldatessa mentre la Nunes più forse spaventosa più estrosa varia nel metodo di vittoria sulle sue avversarie soprattutto molto più aggressiva anche nel game plan fanno paura tutte e due secondo me si dovrebbero scontrare ancora una volta sì sì no assolutamente insomma adesso non vorrei che passasse il messaggio che possa mettere di fronte dire esattamente che una sia migliore dell'altra ecco in termini no no io sono d'accordo con te ti dico ste sono proprio a un livello molto simile la Nunes ha vinto perché comunque la prima volta ha vinto forse in maniera un po' più convincente la seconda un po' hanno la storia di Volkanowski e Holloway in Holloway poi Shefchenko ha avuto la fortuna che UFC ha aperto la categoria ai 125 che per lei è perfetta praticamente nessuno lì può nemmeno pensare di competere con lei sì 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 poi è anche comunque c'è anche un come dire una caratteristica anche di differenza fisica per esempio insomma questa sfida proponeva comunque una Shefchenko in teoria fisicamente a livello di mere misure fisiche inferiore o perlomeno per alcuni parametri a Lauren Murphy che comunque è una fight che per flyweight è insomma ben dimensionata per così dire insomma per non essere troppo rispettosi verso una signora comunque strutturalmente fisicamente muscolarmente ovviamente ben dimensionata e Shefchenko però insomma l'ha trattata per certi aspetti soprattutto nelle fasi di cambio di livello per non parlare di quelli di striking come una bambola di pezza ecco mentre Manna Nunez nella stragrande maggioranza di suoi matchup storicamente a parte forse un po' Germain de Rendemi però a livello fisico è sempre risultata la fighter più nettamente fisicamente a proprio impatto fisico più grande esatto quindi c'è anche questa differenza però anche qui insomma un po' anzi un po' ancora di più rispetto al ragionamento che facevamo per quanto riguarda Holloway e Volkanowski anche qui di Riffo di Raffa sperando anche insomma che possa capitare prima possibile perché poi insomma le carriere di Mixed Martial Arts possono avere degli sviluppi e l'evoluzione del matchmaking delle Mixed Martial Arts possono avere sviluppi anche imprevedibili che possono far saltare certi match o comunque non farle mai fissare mi auguro e penso ci auguriamo tutti che prima o poi questa terza sfida possa capitare e che possa per certi aspetti darci ancora delle risposte che continuiamo a cercare nel confronto ideale tra queste due grandissime fighter tra le migliori fighter di MMA femminili attualmente in attività e molto probabilmente anche a livello storico di questa particolare branca della disciplina parlavo di sfide che insomma ci hanno messo tanti anni per essere rifissati di rimatch che ci hanno messo davvero tanti anni per essere rifissati e la sfida tra Robbie Lawler e Nick Diaz rientra ampiamente in questa categoria visto che parliamo di un match del 2021 che ha avuto il suo precedente nel 2004 quindi altro che altre ere parliamo proprio di un'altra dimensione temporale rispetto al match insomma al primo incontro tra questi due fighter ovviamente fighter che si presentano in traiettori di carriera completamente diverse insomma dal 2004 al 2021 diciamo che quella particolare di Nick Diaz già appariva in avvicinamento a questo incontro insomma fondamentalmente chiusa con questa piccola occasione insomma questa particolare occasione per vedere se c'era ancora del fuoco dentro il fighter di Stockton e a netto del dibattito che si è creato insomma nei vari canali di commento degli appassionati di mix martial arts detti lavori anche nel nostro piccolo diciamo nel nostro gruppo telegram sulla qualità o meno della performance di Nick Diaz molti sono espressi in maniera negativa sottolineando gli indubbi difetti o comunque aspetti negativi di quanto proposto dal fighter di Stockton all'interno dell'ottagono però devo dire onestamente qui più che di impressioni non possiamo parlare in questo match che a livello di competitività attuale nel contesto delle mix martial arts ha veramente poco poco da dire sia per lo sconfitto che per il vincitore però in particolare per Diaz devo essere sincero come impressione rispetto a quelle che potevano essere le aspettative realistiche che si potevano maturare nei confronti di questo matchup tutto sommato non si è comportato così male nei primi due round diciamo nel primo ha avuto inizialmente maggiore accortezza difensiva facendo se mi passi l'espressione sfogare l'iniziale rush offensivo blitz offensivo di Lawler classico blitz insomma frontale per ridurre l'avversario insomma sospingerlo a bordo gabbia Nick Diaz ha avuto la prontezza insomma di tenere sempre le mani molto alte ha alla distanza insomma anche relativamente poco tempo dopo l'iniziale blitz per l'appunto di Lawler ha cominciato a scaldarsi insomma con questi suoi pugni da lunga distanza diciamo a braccio esteso per così dire insomma approfittando pienamente di tutto il suo allungo insomma inizialmente col destro col sinistro poi combinando anche entrambe le sue armi lo stile insomma non è mai stato diciamo molto forte di Dick e in generale dei Diaz proprio da un punto di vista esteticamente è bello però non lo so ha una sua bellezza diciamo è stilisticamente bello in termini estetici di riconoscibilità ma da un punto di vista diciamo di bellezza e di precisione del movimento magari non è bellissimo quello che è apparso però diciamo netto è stato il fatto che dietro questi forse i primi colpi per certi aspetti escono un po' fuori da questa considerazione ma in generale insomma si è visto che anche per un legends fight diciamo qual è stato questo che c'è stato questo sabato Nick Diaz è apparso non avere davvero pochissima se non quasi nulla potenza detto questi colpi di avere comunque una velocità al netto della particolarità dello stile comunque una velocità di questi colpi veramente al non dico rallentatore però sicuramente con diverse marce indietro rispetto al non dico al suo prize ma anche a quel poco che si è visto diciamo post 2013 diciamo anche solo al match del 2015 per quel poco che si è combattuto contro Anderson Siva era comunque un fighter apparso tendenzialmente più competitivo di quello che è stato questo scorso sabato e perlomeno altro aspetto che da un lato insomma sottolinea quanto in un incontro di MMA diciamo attualmente nel 2021 di Azzon abbia relativamente poco da dire oltre i primi minuti di una contesa però si è visto altro aspetto che personalmente ho apprezzato comunque la dignità e la coscienza di fermarsi nel momento in cui Lawler che nel secondo round forse ha mollato un pochino la presa poi nel terzo appunto è tornato ad attaccare insomma o comunque ha avuto maggiore efficacia nel suo classico accorciare cercare di agganciare il clinch con un braccio e utilizzare l'altro per andare a segno con colpi con montanti accompagnati anche da ginocchiate nel terzo round insomma è tornato quello più aggressivo che si è visto nell'interno della prima della prima stanza ed ha dato segno in particolare poi con questo gancio destro praticamente dietro l'orecchio comunque con Diaz che si stava avvoltando insomma che è stato colpito dietro l'orecchio che ha fatto perdere definitivamente l'equilibrio e ha spento sostanzialmente perlomeno insomma la coscienza competitiva il fuoco competitivo di Nick Diaz che è poi stato invitato da Lawler a rialzarsi ma poi insomma ha detto all'arbitro comunque e allo stesso Lawler che non ne aveva davvero più e invece di continuare e farsi massacrare insomma ha preferito abbandonare Giovanni sarà forse per dignità diciamo che si deve comunque a un fighter molto discusso amato odiato da tanti altri però sicuramente se non propriamente una leggenda in termini pienamente stretti con tutti i crismi del termine però sicuramente uno dei personaggi più riconoscibili e rispettabili all'interno del mondo del mix martial arts fa la sua carriera e tutto io faccio fatica forse appunto per rispetto vedo rispetti positivi tu da appassionato di Nick Diaz insomma sarei messo nella stessa posizione insomma nella posizione anche più difficile nel sorpesare tutti gli aspetti della prestazione di Nick Diaz come l'hai vista diciamo a cuore leggero comunque diciamo dopo aver visto questo incontro e ripensandoci un po' ma si steve ho avuto ho avuto modo di pensarci di rivederlo a me non è piaciuta tanto questa prestazione sinceramente non sono contento della prestazione che ha fatto Nick era partito piuttosto bene però ha perso subito atletismo ha perso subito esplosività non lo vedevo gli era rimasta solo la dote da incassatore solo che è arrivato troppo presto a subire praticamente il forcing di Lohler si è messo troppo presto spalle alla gabbia ha assorbito un sacco di colpi e non è riuscito a rispondere nella maniera migliore poi sono rimasto sorpreso dal fatto che fino a una settimana e mezza fa due settimane fa metteva delle foto in cui era fisicamente in stato veramente eccezionale poi invece la notizia del cambio di categoria questo calo un attimo mentale probabilmente non ho ben capito comunque sarà successo sicuramente qualcosa perché per cambiare divisione di peso nell'ultima settimana non so se ha sbagliato i tempi non so se non se l'è sentita di rientrare al 170 non ne ho idea di cosa sia successo però qualcosa è sicuramente successo non sono contentissimo della sua prestazione mi piacerebbe mi piacerebbe rivederlo sicuramente sì mi piacerebbe rivederlo in una condizione migliore di questa perché se non riesce a tenere testa all'ultimo Lohler non so quale sia la sua la sua intenzione ecco io per assurdo diciamo pur valutando forse maniera valutando maggiormente gli aspetti positivi la performance onestamente però non vorrei rivederlo diciamo onestamente diciamo più che altro perché temo che ci possa essere come in termini in tempi recenti con diversi fighter che hanno dimostrato in qualche modo di avere ancora qualcosina in termini appunto di competitività all'interno di uno sport di combattimento non vorrei che entrasse un po' nel loop di un se non di un altro match in UFC o addirittura di un passaggio magari in un'altra promotion o il passaggio al bird knuckle boxing o addirittura farsi coinvolgere dal mondo dei freak show se vogliamo definire di così dei fratelli Paul insomma onestamente se doveva trattarsi di una diciamo togliersi il dubbio ecco per così dire se poteva ancora fare insomma poteva ancora combattere di MMA questo match diciamo ha offerto tutte le risposte e tutto sommato anche in una maniera forse meno cruenta di quello che poteva capitare perché poteva esserci insomma un KO molto più netto poteva esserci un infortunio anche grave insomma perché cose comunque scenari un pochino più drammatici da non escludere quando ci sono fighter comunque così consumati così lontano da questo sport per così tanto tempo lontano da questo sport e anche di una certa età perché comunque Nick Diaz non è poi neanche così questo giovincello diciamo la scampata diciamo tutto sommato questa volta ha fatto anche per certi aspetti una discreta figura nei limiti del possibile e di tutti i limiti che hai prontamente giustamente sottolineato se ne può fare a meno però diciamo in generale sono più avanti nel tempo insomma grazie per l'impegno però per averci provato però non ve lo sì forse magari ancora un match così però onestamente anche quale avversario di proprio resti diciamo Lohler per certi aspetti sì forse magari un Matt Brown però sono sempre lì insomma semplicemente comunque la prospettiva di avversario che può affrontare realisticamente un Nick Diaz insomma erratico e con tutti i problemi che può avere però onestamente non ce ne sono tantissimi eh fondamentalmente quando ti hanno dato Lohler e hai perso per chi che io al terzo round e mostri quei limiti poi secondo me quei limiti che ha sempre mostrato il footwork che invece in questa occasione poteva essergli veramente caro ci sono da rivalutare davvero tante cose cioè qual è l'intenzione di Nick Diaz è quella di continuare a combattere sì la condizione non può essere sicuramente questa guarda io ti ripeto a me non dispiacerebbe rivederlo però a patto che sia in una condizione presentabile altrimenti va bene anche così magari preferiamo saperlo integro piuttosto che in queste condizioni qui eh sì insomma la speranza è che se deve essere presa una decisione visto che non possiamo prendere sicuramente noi per lui possa essere presa diciamo con il massimo della lucidità e della serenità insomma della consapevolezza cosa a volte anche piuttosto rara vedendo esempi di altri fighter che hanno continuato diciamo in maniera evidente platealmente oltre al loro tempo e speriamo che non possa essere caso di anche il caso di Nick Diaz mentre dall'altro lato insomma comunque Lohler diciamo ha fatto il suo e in particolare da un punto di vista statistico insomma ha allungato ancora un pochino la sua carriera interrompendo la striscia di quattro sconfitte consecutive che lo aveva colpito di recente in carriera tornando così alla vittoria che gli mancava dal luglio del 2017 ha ottenuto la sua prima vittoria per stoppage dal luglio del 2015 quindi insomma anche qui tanto tempo che non teneva un simile risultato e cosa anche particolare diciamo chicca che potete giocarvi per un'eventuale trivia in futuro su questo fighter o su questo incontro Lohler sale a 5 vittorie e 0 sconfitte nelle rematch che ha avuto in carriera come Mirko Crokop assolutamente si stabilizza anche in questa fase tarda di carriera comunque un altro dettaglio volendo che Fadi Lohler comunque se non magari una leggenda riconosciuta come appunto lo stesso Crokop però sicuramente uno dei fighter meritori di tutto il rispetto assoluto per quello che ha offerto diciamo in una determinata fase della sua carriera credo che Lohler si possa definire una leggenda poi al di là per quanto mi riguarda lo è però capisco anche che magari rispetto ad altri non lo possa essere diciamo ci sta ci sta passando invece alle contese non sulle 5 riprese di questa card tra main card e preliminary performance scolastica nell'accezione direi negativa del termine per certi aspetti per Curtis Place che aveva effettivamente bisogno di una vittoria e che l'ha ottenuta diciamo utilizzando il playbook più semplice e comunque più sicuro quello dei cambi di livello comunque della capacità di atterrare il suo diretto avversario nel match appunto heavyweight contro giardino rosenstruck vittoria per blades per decisione unanime con i cartellini di 30-27 30-27 30-27 i blades più convincente più apprezzabile interno di questo match per non darli insomma direttamente conto come magari hanno fatto tanti altri commentatori insomma hanno parlato di un match tendenzialmente noioso il meglio del suo match lo si è visto probabilmente nel primo round dove si è visto un fighter molto abile a colpire con il jab a volte anche raddoppiato dopo il cambio di guardia con naturalezza e comunque anche un discreto grado di potenza comunque di forza dietro ogni colpo portata a segno nel primo round in apertura di incontro capacità insomma di tenere sempre un po' in sospeso ronzo che da parte sua ha ribadito ulteriormente i suoi enormi limiti nel impostare un qualsiasi game plan affidabile o comunque produttivo che non sia la ricerca del momento per andare a segno con tutta la sua potenza e poi attivamente insomma appena possibile appena l'avversario ha dato la possibilità di andare a segno da parte di blades con atterramenti con deckdown e una solida stabilizzazione a terra con lavoro in grand and pound lo si è visto diciamo più attivo e più vivace più apprezzabile nel primo round dal secondo in poi onestamente blades forse si è accontentato diciamo se mi pretendete senza mancare di rispetto a un combattente mma però si è accontentato un po' forse un po' troppo ottenendosi stabilmente deckdown e non correndo grandissime rischi a parte forse qualche colpo singolo da parte di Rosenstuhl che però onestamente diciamo non dando mai l'impressione di poter di cercare attivamente dopo i primi cinque minuti cercare attivamente una conclusione anticipata dell'incontro diciamo prendersi qualche rischio ecco blades forse è stato fersin troppo prudente contro un avversario stilisticamente incapace comunque di essere alla sua altezza sotto diversi aspetti del combattimento dando quindi comunque l'impressione per l'appunto di un fight di un incontro noioso deludente di una prestazione abbastanza anonima blanda da parte di blades giovanni siamo tutti io e altri commentatori diciamo più titolati di me poter possedere nei confronti di blades oppure anche tu diciamo ti aspettavi un pochino di più tenendo conto anche che blades un po' per le sconfitte pesanti che ho ottenuto in determinati match up in particolare quelli con ngannu è sempre un fighter che si sarà sempre considerato nel pieno della sua carriera come un potenziale contender però ha bisogno di qualche vittoria un pochino più di rumore per poter rientrare poter entrare per la prima volta davvero in un discorso di number one contendership che lo ha fin qui sempre l'uso ma lui si è sempre fermato poi fondamentalmente contro il primo contendente una volta contro Francis due volte scusa contro Francis inganno e una volta contro Derek Lewis è un fighter che sotto l'elite diciamo ci sta benissimo sotto i vari ingannosti Pemiocic comunque eventualmente se dovesse entrare John Jones vedendo come si adatta al peso e sotto Derek Lewis poi c'è Curtis Blades fondamentalmente chi c'è? c'è un crescente Tom Aspinall però al di là di quello poi troviamo Blades e il suo stile travolgente che nessuno a parte inganno e Lewis è stato in grado di arginare quindi io credo che la tua critica invece è corretta perché da uno come Blades ci si aspetta comunque un modo di essere dominante diverso rispetto a quello che ha mostrato ci si aspetta il fighter che ha affrontato over him per intenderci quindi sono assolutamente d'accordo con te e credo che anche lui sia a mezzo scalino più in basso dell'elite sebbene siano pesi massimi e credo anche che debba migliorare e debba andare a ricercare appunto la chance titolata per arrivare alla chance titolata deve passare ad esempio per dirne uno da Stipe Miojic in questo momento a me se non concesso che il suo match contro John Jones si faccia si diciamo poi date anche le notizie recenti l'elemento John Jones rimane ampiamente in sospeso vista anche l'ultima vicenda di Cronaca che lo ha visto protagonista e per quanto riguarda Blades l'arresto l'ennesco eh si 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 per quanto riguarda Blades invece appunto manca sempre ancora insomma probabilmente l'ansia di tornare alla Winding Column per così dire insomma lo ha portato ad essere particolarmente prudente però potevano essere i margini potevano esserci i margini onestamente per una vittoria prima del tempo un pochino più convincente questi margini diciamo Blades non li ha colmati e quindi il suo futuro in prospettiva alta diciamo della categoria heavyweight rimane sempre ancora un po' in sospeso in valia insomma di quelli che possono magari essere altri risultati tra altri fighter di categoria tra l'altro si vedrà appunto particolare insomma come si evolverà la situazione particolare a livello proprio di titolo vero e proprio o presunto tale tra Seerid Gun e Francis Gun in futuro e da lì magari potranno uscire fuori eventuali futuri matchup per lo stesso Blades e per altri protagonisti della categoria di peso a questi livelli ottima prestazione senza con dubbio si può definire così quella in apertura di Menkada tra Jessica Andrad e Cynthia Calvillo anche relativamente poco da dire nel senso che Andrad anche lei insomma per certi aspetti con elementi in comune anche allo stesso Volkanovski in particolare proprio in apertura di incontro per l'abilità di utilizzare il calf kick inizialmente per stabilire un determinato range di attacco impedire in particolare all'avversario di improntare magari una certa strategia o comunque poter prendere ritmo col proprio striking e tagliare gli spazi insomma anche lei insomma si è distinta ottimamente in particolare in apertura di incontro ha mostrato anche in questo suo utilizzo dei calci in apertura anche un discreto senso della lateralità che spesso non le è stato attribuito insomma e che di fatto anche nel corso dell'incontro per altri aspetti non si è visto nel senso che comunque i suoi blitz offensivi principalmente si sono sempre sviluppati come solito in perdine a centrale appunto con ricerca rapida delle combinazioni cosa appunto che si è verificata anche all'interno di questo incontro e che nel giro di pochissimo tempo insomma praticamente il tempo di un round 4 minuti 54 secondi ha portato a una conclusione anticipata dell'incontro Giovanni una delle migliori Andrade insomma che si sono viste in carriera qualche passo in avanti però diciamo purtroppo torniamo un po' al discorso di Sefsenko e delle rivali può magari con questa vittoria e magari con un altro risultato inteso Andrade può magari tornare a essere un number one contender ma onestamente da questo match non è apparsa comunque un'avversaria necessariamente troppo competitiva e troppo pericolosa per le prospettive di Valentina Sefsenko può diventare diciamo la campionessa delle normali ecco Jessica Andrade a Flyweight sì sì esatto può diventare assolutamente secondo me può anche puntare ormai a un tentativo titolato ecco anche perché voglio dire nella divisione inferiore ha detto di voler scendere di nuovo di divisione e quindi questa è una notizia già di per sé perché è già stata campionessa nella divisione sotto è altamente competitiva a parte il match contro la Zang non l'ho mai vista eccessivamente in difficoltà quindi secondo me potrebbe anche tentare effettivamente la discesa di categoria però ormai che si trova qui non saprei tu come la vedi a 125 a me sembra altamente pericolosa no la categoria è sicuramente una lo ha dimostrato al di fuori del match contro la Sefchenko comunque ha dimostrato con leggeri miglioramenti appunto anche in questo incontro e comunque altri limiti riconosciuti che probabilmente diciamo non correggerà mai è sembrata comunque una fighter che sia adattata che ha saputo adattare le sue caratteristiche di striker e le sue caratteristiche fisiche anche insomma la fighter torno anche sul paragone con Volkanovski fisicamente magari non impressionante a livello di dimensioni di altezza però di potenza fisica di utilizzo della propria potenza impressionante insomma comunque con relativamente pochi pari in categoria però avendo a che fare poi come campionessa con come principale ideale avversaria la Sefchenko o dimostra diciamo di poter esporre in qualche modo difetti che in realtà poi non si sono così tanto visti in tempi recenti di Sefchenko per improntare un serio assalto futuro al suo regno oppure diventerà sostanzialmente una sorta di Benavides ecco insomma il paragone volendo può essere questo insomma con Sefchenko che ricopre il ruolo di quello che il ruolo che aveva avuto Dimitris Johnson per ampia parte dell'esistenza della categoria flagweight maschile e andrà da candidarsi a diventare una sorta di Benavides insomma la migliore fighter la campionessa non incoronata la campionessa delle normali la prospettiva credo che sia questa diciamo realistica nel periodo in medio termine beh non posso che essere d'accordo con te ma infatti lei ha dichiarato di voler scendere di categoria e l'ho fatto secondo me sensatamente esatto l'ho fatto sensatamente effettivamente non c'è nessuno in questa divisione al pari della Sefchenko quindi fa bene secondo me a scegliere la divisione inferiore Jessica Andrade a riprovare un assalto al titolo che ha già vestito no? eh sì poi appunto anche a livello di avversari e anche di competizione volendo sicuramente più interessante rispetto a quello che può essere Flyweight anche se qualche prospetto particolare insomma da fuori uno appunto se vedrai nella prossima card bfc magari ne acceneremo anche Zio Neal qualche segnale di vita anche a Women's Flyweight c'è in termini di emergere di future fighter di talento però insomma l'abbiamo detto più volte in questa puntata e l'abbiamo detto più volte anche in passato comunque il dislivello di talento rispetto alla campionessa è ancora abissale insomma per la stessa Andrad che comunque ha dimostrato di essere materiale da campione da campionessa nel suo caso e per tante altre dirette versare nella Flyweight di Vision ha dato tanto spettacolo la main card non è stata da meno anche la porzione dei prelims in particolare la porzione alta dei prelims con match che avrebbero potuto stare tranquillamente in main card o che di questo pay per view o che avrebbero potuto essere anche dei veri proprio medeventi di card non numerate mi riferisco nello specifico ai match tra De Nuker contro Nasrat Akparast match miracolosamente rimasto a lightweight nonostante i due siano arrivati in pochissimo tempo negli Stati Uniti è venuto pochissimo tempo eh sì veramente comunque un applauso a entrambi al netto di come hanno combattuto anche solo per questo aspetto sono riusciti a fare il peso in pochissimo tempo però a vincere diciamo fattualmente è stato solo De Nuker con i cartellini di con le decisioni unanime con i cartellini di 30-27 30-27 30-26 non ha avuto bisogno di giudici invece Merab Valifili che ha allungato in maniera assolutamente spettacolare e a tratti incredibile la sua striscia di successi a Banta sesta vittoria di fila per la precisione alla pari al Jermaine Sterling per le strisce di successi attiva più lunga all'interno di questa divisione di peso sconfiggendo Marlon Moraes per TKO dopo 4 minuti e 25 secondi nel secondo round tutti i complimenti che abbiamo fatto o comunque le considerazioni che abbiamo fatto in termini di spirito combattivo diciamo di determinazione nel non mollare mai per relazione a Volkanovski non possono che essere ripetuti anche in relazione a a Dvalishvili che insomma si è vista veramente molto brutta nel primo round andando davvero vicino a una finalizzazione subita per mano di un redivivo Marlon Moraes che lo ha steso due volte che lo ha mandato in knockdown due volte e che è andato davvero a un passo da uno stoppage da una vittoria per stoppage per TKO Keith Peterson l'arbitro ha deciso di far correre comunque di dare ancora qualche possibilità a Dvalishvili esattamente come lo stesso Erglim ha fatto nel main event con Volkanovski e Dvalishvili ha ringraziato con uno dei più clamorosi e spettacolari comeback in tempi recenti perlomeno in UFC andando comunque insomma a ritornare in sella con il suo wrestling per il quale Moraes non aveva avuto assolutamente alcuna risposta e andando a vincere invece lui per TKO parlavo di takedown in particolare da un punto di vista statistico Dvalishvili ha raggiunto quota 50 takedown portati a segno nel corso della sua carriera in UFC registrando diciamo il numero più alto di atterramenti mai rilevati nel complesso nel contesto della competizione a banta weight in UFC stabilendo appunto un record di divisione di peso e infliggendo a un Marlon Moraes che per larghi tratti è sembrato decisamente più competitivo di quanto lo è stato in tempi recenti però purtroppo per lui è arrivato un'alta sconfitta e adesso siamo a tre sconfitte consecutive una vittoria che per lui manca dal dicembre del 2019 e altro aspetto di cui avevamo anche parlato in anteprima nel podcast in particolare anche su Twitch Moraes ha esibito una grande difficoltà a reggere i colpi insomma ad avere un momento ormai abbastanza consumato dai tanti colpi che ha subito in carriera e il fatto che sia arrivata alla sua ottava sconfitta per stoppage su nove sconfitte complessive in carriera è ampiamente indicativo di questo aspetto di come appunto Moraes oltre a un certo grado di colpi ormai non si è in grado più di reggere ed è stato anche questo il caso con Dvalisvili vittorie diverse per appunto Giovanni quelle di Uker e Dvalisvili però vittorie che stabiliscono da un lato insomma per lato di Uker un fighter che contro non so un emergente comunque un fighter che poteva avere la sua chance per finalmente farsi un nome in ak parasta lightweight ha confermato comunque di essere ancora un osso duro al netto insomma di quella dura sconfitta che subì per mano di Chandler e dall'altra parte invece abbiamo visto un Dvalisvili che per tanto tempo si è pensato potesse essere un contender in the making dopo questa prestazione in cui ha dimostrato anche di insomma saper superare le avversità anche le più difficili apparentemente insuperabili insomma materiale diciamo aspetto dal quale si può valutare quale possa essere un futuro di campione di categoria anche Dvalisvili anche sotto questo aspetto Dvalisvili ha dimostrato di avere i mezzi diciamo per coltivare in futuro eventuali ambizioni almeno di una chance titolata se non addirittura ambizioni titolate vere e proprie insomma ha confermato davvero di essere un vero e proprio prospect increscendo all'interno di Banta anche qui non posso che essere d'accordo con te l'avevamo detto già quando avevamo presentato la card è un fighter molto pericoloso è un fighter che sta scalando i ranking in maniera anche abbastanza impressionante con una serie di vittori incredibili ormai sul gruppone quindi assolutamente complimenti a lui adesso top 5 eh sì 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 prospettiva sicuramente quella di match più competitivi magari ancora forse un top 10 proprio per essere ancora un pochino sicuri perché effettivamente Moraes poteva non poteva essere magari il più attendibile dei test per una competitività ad altissimi livelli a Banta più che altro insomma per la sua striscia di sconfitte recenti che ho appena ricordato però insomma Valishvili sta dimostrando stavolta più forse dal lato del carattere ecco comunque non che non avesse mai una certa solidità mentale per così dire comunque andare in applicazione del suo game plan solitamente fatto di tanto resting non è che ci voglia che sia un gioco da ragazzi l'ho fatto sembrare un gioco da ragazzi ma ci vuole comunque una grande applicazione mentale anche in questo qui ha fatto vedere proprio forse qui il perdonatemi insomma un po' la retorica però il cuore del campione perché comunque pensare di riprendersi e andare a vincere un incontro dopo quel burrone che stava sfiorando insomma dal quale stava precipitando nel corso dell'incontro e non è cosa da poco insomma comunque credo che abbia fatto richiedere tanti scettici anche a buona ragione sulle sue ambizioni future di competitività in UFC sì sì hai detto tutto giusto e fondamentalmente ha mostrato di avere proprio le qualità per competere a quel livello ogni tipo di qualità poi perché anche la capacità di tornare da un KO sfiorato come quello che ha preso è indicativa poi per capire a che punto può arrivare un fighter del genere e secondo me ha superato comunque la prova alla grande invece nel match di The Nunker match insomma direi solido senza magari grandissimi episodi per lo meno che io ricordi per un match piuttosto solido per conduzione nel quale comunque anche qui si è vista una differenza di livello il quale The Nunker comunque ci può stare stabilmente e al quale invece forse Akparast dopo questo match forse non può mai ambire per lo meno livello di competizione inteso a lightweight ma in questo momento probabilmente sì invece da dire che Akparast se non era ha pure perso la mamma nell'ultima settimana sì sì è vero e comunque credo sia questo sia un match a parte per la sua carriera e comunque ha tenuto botta senza mai effettivamente rischiare cioè ha subito il ground and pound ma non ha mai rischiato di andare davvero K.O. contro uno dei fighter più pericolosi un marauder lo chiamerebbero gli anglofoni uno dei più pericolosi in circolazione quindi aspettiamo di vedere la prossima prestazione di Akparast perché secondo me è giovane ed ha ancora molto da dire bene comunque Dan Hooker benissimo perché Akparast continua a dire è un fighter pericoloso alle mani pesanti e rapide e Hooker si è visto avere dei problemi con questo particolare tipo di fighter quali può essere anche Michael Chandler che al contrario di quello che si pensa non è soltanto un breaster ma ha le mani davvero pesantissime quindi credo che sia stata anche una buona prova da parte di Hooker quell'offerta sabato sì sì assolutamente è permesso diciamo di finire già subito questa performance di Hooker come quella di una ripartenza diciamo nel percorso della sua carriera dopo appunto il netto tonfo subito per mano di Chandler forse magari qui fosse acceduto può essere un po' troppo presto alla luce anche delle circostanze taglio del peso l'arrivo tardivo negli Stati Uniti e appunto la sua tragedia familiare forse può essere un po' troppo presto bocciare del tutto Akparast forse ancora una chance in condizioni magari un pochino più favorevoli a livello logistico e psicologico può essere si può concedere ancora una chance per vedere se può fare ancora questo salto di qualità che molti gli hanno prospettato nel corso della sua carriera in chiusura diciamo giusto per ricordare gli altri risultati e altre performance digni di rilievo di questo UFC 266 successo abbastanza solido che pone interesse nel confronto di questo fighter per Chris Daukus a heavyweight contro Shamil Abdurah Rakimov vittoria del primo per TKO dopo 1 minuto e 23 secondi nel secondo round sulla medesima falsariga particolare insomma di fighter che aveva bisogno di una di fighter femminile in questo caso che aveva bisogno di una vittoria di una prestazione convincente per ripartire nel caso di Tyler Santos vittoriosa per decisione unanime 30-27 30-27 30-27 contro Roxanne Modaferri interruzione di un hack train quello di Uros Medici da parte di Jalen Turner in maniera anche piuttosto netta e con un risultato con una finalizzazione piuttosto netta Rian Necciotto dopo 4 minuti e un secondo nel primo round nella sfida combattuta a lightweight mentre a middleweight Nick Maximoff ha difeso diciamo gli onori dei fighter legati al team Diaz comunque legati ai fratelli Diaz vincendo contro Cody Carbange per decisione unanime 29-28 29-28 29-28 non ha fatto lo stesso invece Matthew scusate Martin Sano Junior che proprio per mano di Matthew Semmelberger ha subito una sconfitta dopo appena 15 secondi per K.O. Jonathan Pierce in apertura di vento a featherweight ha battuto Oma Morales per Ian Neccioc dopo 3 minuti e 32 secondi nel primo round bonus giusto per ricordarli Fight of the Night ovviamente a Volkanovski e Ortega performance of the night andati invece a Valisvili e Chris Daukus prima di chiudere una brevissima visione insomma una brevissima scorsata ai match principali della prossima card UFC si torna appunto allo UFC Apex per l'ennesima Fight Night nell'ambiente intimo della facility di proprietà della Ultimate Fighting Championship nel main event Tiago Santos e Johnny Walker si affrontano in un curioso derby carioca a light heavyweight a middleweight Kevin Holland cerca di ripartire contro l'altro Daukus fratello Daukus in questo caso Kyle mentre a welterweight Alex Oliveira sarà protagonista di una sfida che può prospettare diciamo un KO clamoroso e anche abbastanza inatteso contro un fighter come molto estemporaneo da questo punto di vista come Nico Price altra sfida a middleweight in a main card tra Misha Sirkunov e Christof Jotko e in apertura di main card una sfida diciamo più volte rimandata e che insomma si spera possa andare in scena questo sabato tra Aspen Ladd e Macy Chiason in apertura appunto di main card tra gli altri nomi forse la contesa dei prelims che può avere un maggiore interesse la citavo prima è quella tra Antonina Sefchenko e Casey O'Neill a women's lightweight appunto in Casey O'Neill il prospetto femminile il fighter talento emergente femminile in questa categoria di peso che forse può avere qualche prospettiva in una categoria di peso che abbiamo detto più volte non avere tantissima concorrenza può essere una delle fighter che anche in un breve termine può addirittura risalire insomma alla gerarchia avvicinarsi in qualche modo a un'eventuale chance titolata ovviamente in un eventuale futuro e ovviamente dovendo passare prima dal corpo per così dire di Antonina Sefchenko Giovanni non è neanche una card così pessima diciamo come costruzione per essere soprattutto una card di scarico dopo l'entusiasmo e i fuochi d'artificio di UFC 266 curiosità per rivedere se Tiago Santos dopo la lunga scia dell'infortunio post sfida con John Jones e la sfrescia di sconfitte insomma che si è venuta a creare di conseguenza per mano con Tonfi per mano di Texeira e Rakic possa ripartire contro un fighter che anche lui come gli stessi Price e Olivera molto estemporaneo che può avere sempre il colpo improvviso in canna come Johnny Walker curiosità anche per questo Holland che contro forse il più talentuoso in teoria e promettente dei fratelli Daukaus ha bisogno anche lui di una vittoria convincente e in particolare risposta anche nell'ambito del wrestling che è stata poi la base delle sue più recenti sconfitte sì sicuramente Stefano e come dici tu non è una card da far passare inosservata perché già il derby brasiliano che fa da main event potrà ridefinire chi fra i due potrà rilanciarsi non dico per ottenere una chance titolata ma per andare di nuovo a competere nella top 5 sicuramente chi vince torna a competere in questo momento poi sicuramente la divisione dei massimi leggeri si sente orfana e Tiago Santos ha già battuto il campione Jan Blakovic quindi sicuramente sente di avere una chance a quella cintura adesso Walker ha tutto da guadagnare da questo match perché diciamo che le ultime uscite non sono state delle migliori mentre poi come in event vabbè fa sempre piacere almeno stilisticamente vedere Kevin Holland all'interno dell'ottagono Dow Kaos è un buon fighter che nell'ultima uscita è stato sconfitto da Phil Owes se non erro e poi c'è Oliveira Price che è sicuramente il match della gente fra virgolette quello che riserverà probabilmente lo spettacolo in back and forth più elettrizzante della serata e sì diciamo questi probabilmente sono gli scenari più positivi diciamo più ottimistici che possono emergere da questa card insomma di sfide che diciamo se non emergerà troppo la come dire l'ansia di dover ottenere una vittoria anche magari sporca o non spettacolare per una parte di tanti protagonisti di questi incontri se si apriranno insomma se si prenderanno un po' dei rischi potranno regalarci insomma una card potenzialmente divertente se non esattamente perlomeno a livello di alto livello di MMA insomma espresso come UFC 266 però anche a un livello relativamente più basso di qualità comunque sempre molto divertente e ci auguriamo insomma che possa essere così visto che per l'appunto andremo a commentare nella prossima puntata quanto succederà in questa card con questo episodio possiamo chiudere prima ricordiamo però prima dei saluti come sempre i nostri contatti pagina Facebook profili Instagram e Twitter dove ci potete trovare così come ci potete trovare e parlare direttamente con noi nel gruppo Telegram linkato nelle note dell'episodio altra occasione per interagire con noi è l'appuntamento con la diretta Twitch regolarmente di solito al giovedì sera in compagnia degli amici di Fatti Marziali per commentare diciamo presumo questa settimana ancora la lunga scia di quanto è successo a UFC 266 ma anche altre notizie dal mondo delle Mixed Martial Arts altra anteprima altra occasione per confrontarci sui futuri eventi sui futuri matchup appunto dei fighter della UFC e in particolare anche volendo anche dei fighter italiani visto che in settimana nei prossimi giorni ci sarà anche una card cage warriors con diversi fighter italiani impiegati quindi magari avremo modo anche di parlare di questo su Twitch però per questa parlata per l'appunto possiamo chiudere qui e passare definitivamente ai saluti da questa parte del microfono vi saluto a Stefano ciao a tutti e da quest'altra Giovanni ciao a tutti e al prossimo episodio con MMA Talks Podcast Ciao a tutti Grazie a tutti.